fuoco alle polveri belli ragazzi questi magnum alba polveri al fuoco si è alzato vento ma che vento si è alzato pazzesco possiamo anche non spararli tutti non è che manda via la nebbia ho qualche dubbio io non credo ragazzi era partito da ne proviamo un paio approviamo tutta la scatola basta ci hanno preso la mano sono partiti meno male che ne facciamo solo un paio